Una storia, quella fra Rossi Oliodinamiche e la Formiga che comunque va avanti da anni, oggi c'è stata la celebrazione di questa azienda, in questi anni quanto legame c'è stato? La storia va avanti da quasi un ventennio perché Rossi Oliodinamiche è stata la nostra prima dita su cui abbiamo acquistato, mi ricordo ancora i primi 5 camion col finanziamento e quindi da quel momento anche per una scelta di una ditta che produceva le attrezzature per i camion che servivano per la raccolta qui in Romagna abbiamo scelto questo partner che è diventato poi negli anni un partner importante, tanto che anche con i noleggiatori quando chiediamo dei camion a noleggio li chiediamo poi che abbiano sopra l'attrezzatura Rossi, questa vicinanza chiaramente aiuta, ha aiutato molto nelle relazioni perché fra Rimini e Riccione a distanza è breve quindi ci siamo sentiti più volte e Rossi ci ha anche accompagnato in questo nostro processo di Chrysler che oggi abbiamo più di 60 camion di cui quasi tutti con la sua attrezzatura. È stato posto molta attenzione sull'aspetto della storia ma anche sull'aspetto ambientale e questo è il profilo che alla formica interessa di più se non sbaglio? Sì certo, c'è questa ditta seria che comunque si pone anche delle domande del punto dell'impatto ambientale, costruisce l'attrezzatura comunque valida per raccogliere i rifiuti e quindi per impattare, c'è ancora un grosso problema che comunque non è Rossi la dinamica che può risolvere perché costruisce comunque l'attrezzatura, del camion che c'è sotto oggi purtroppo per noi il camion elettrico fa ancora molta fatica perché comunque puoi muovere l'attrezzatura è molto impegnativo e ci sono, iniziano a essere delle esperienze di camion a metano ma sono camion molto grossi che comunque anche noi utilizziamo in parte perché utilizziamo principalmente camion per patente B.